il bias dell'ancoraggio è un fenomeno per cui tendiamo a valutare caratteristiche prodotti o prezzi in modo distorto a causa delle informazioni che processiamo per primo o che ci vengono presentate per prima questo può avere un impatto significativo sulla nostra capacità di prendere decisioni obiettive e ragionate ad esempio se ci viene chiesto di valutare il prezzo di una casa o ci viene fornita una stima iniziale molto alta potremmo essere inclini a valutare il prezzo finale come più basso di quanto effettivamente sia a causa dell'ancoraggio sulla cifra iniziale al contrario se ci viene fornita una stima iniziale molto bassa potremmo valutare il prezzo finale come più alto ecco perché è importante essere consapevoli del bias dell'ancoraggio e cercare di prendere decisioni il più possibile basandoci su fatti e non sull'influenza di informazioni distorte o parziali l'ancoraggio è il primo passo verso la distorsione della realtà ma la consapevolezza ci può aiutare a liberarci dalla catena del pregiudizio e navigare in modo più obiettivo nel mare dell'incertezza e anche per questo bias abbiamo finito e ci vediamo al prossimo bias ciao